Il Festival Gaber rappresenta innanzitutto per la città di Viereggio una grande vetrina, visto che i grandi media nazionali danno grande risalto a questo appuntamento. È un appuntamento quindi che deve essere supportato e sostenuto per questo motivo, ma anche perché grandi artisti, grandissimi artisti del panorama della cultura nazionale e non solo, vengono a Viereggio per ricordare il nome del maestro Gaber, un personaggio che ancora può essere scoperto, che i giovani hanno il diritto di scoprire perché le sue canzoni sono davvero sempre interessanti ed attuali. Da parte dell'amministrazione comunale quindi c'è questa voglia di supportare l'iniziativa, così come quest'anno ci sarà anche nei prossimi anni.